Buongiorno e benvenuti in queste nuove video guide a 360 gradi panoramiche del lago di Iseo. Questa guida è una prova, una guida di testa. Siamo su Punta Almana e tutto attorno potete vedere la bellezza del lago di Iseo. Ora ci avvicineremo a Taverna Bergamasca. Il comune di Taverna Bergamasca è situato sulla sponda occidentale del lago di Iseo e grazie al suo influsso termoregolatore gode di un clima mite, fresco in estate e temperato in inverno. Di fronte a sé ha un paesaggio mozzafiato. Il lago con i suoi mille colori, Montisola e il Monte Guglielmo, che in ogni momento della giornata muta nella scala cromatica, sottolineando eventi meteorologici anche molto lontani. Il colore del lago, quello del cielo e delle montagne, la direzione del vento e l'incrispatura delle acque, i suoni percepiti e le variazioni di temperature fanno del paesaggio un fidato elemento di previsione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.